Credo che vedremo molti interventi duri oggi. Incredibilmente fiducioso di sé. Oh è stato atterrato. Rigore concesso. L'arbitro non aveva scelta nel concedere un rigore. E adesso c'è di più. L'autore del fallo viene espulso. Cartellino rosso. Attenzione questo rigore potrebbe decidere definitivamente l'incontro. È il primo cambio oggi. Straordinario gol. Che tiro. Assolutamente fantastico. Beh, questo gol non avrà certo fatto piacere al gran numero di tifosi giunti oggi allo stadio. Sono in buona posizione sulla sinistra. Crossa. Di testa in porta. Ed erete. Goool. Hanno portato il loro vantaggio a due gol. Preciso e potente colpo di testa. Buona fuga. Palla al piede. Riuscirà a mettere alla prova il portiere? Ben parato dal portiere. Nell'area. Presa sicura del portiere. Hanno ancora molto da fare da questa posizione. Questo è interessante. Fuori. D'autunità per creare scompiglio con un cross. Cinque minuti al termine del primo tempo. Sulla linea laterale destra. Messa larga nello spazio. Questo è un gran gol. Adesso sono sotto di un gol. Appena prima del fischio finale del primo tempo. Sul pallo sinistro e poi dentro. Recuperare. Non sembra più impossibile dopo questo gol. Spagna luminosa. Spagna luminosa. Spagna luminosa. In area. Respinta di pugno. E' arrivato il fischio per la fine del primo tempo. Entrambi gli allenatori adesso faranno due chiacchiere con le rispettive squadre. sentiamo le tue impressioni sul primo tempo, Mauro. Marco, riesco addirittura a sentire le urlo dell'allenatore. I secondi quarantacinque minuti hanno inizio. Speriamo di assistere ad un secondo tempo di buon livello. Ancora in possesso palla. Può attaccare nuovamente. Prova il tiro. Ed è dentro. Dentro. E' gol. Siamo tornati in una situazione d'equilibrio. Appena dopo il rientro in campo. Gran gol dell'attaccante. Sono curioso di vedere se riusciranno a sfruttare il momento favorevole per mettere a segno una... E spara. Il portiere mi sembra nervoso e deve ringraziare la sua difesa per averlo salvato. E ci prova ancora. Che fantastica conclusione. Sono sotto di un gol. Il gol arriva dall'attaccante. L'ha colpita benissimo e non ha dato chance al portiere. Il primo palo. Palla fortissima. Penso che il portiere potesse vedere che stava uscendo. Liberata dal difensore. Ci prova. Incredibile. Caccia sventata. Un intervento completamente fuori tempo qui. Regala un calcio di punizione. Cartellino giallo. E' il suo primo oggi. Dunque dovrà stare attento per il resto della partita. Teckel scordinato. Calcio di punizione. E così si prende il suo primo giallo dell'incontro. Sembra una decisione severa. Ma non è riuscito a trovare il pallone. E questo... Ecco il fischio finale. Accolto dal pubblico con un boato. Escono sconfitti da questa grande partita. Hanno dimostrato di essere dei veri combattenti. Ma questo non è bastato per evitare...